Milo E' lì che ha visto Milo E' lì che ha visto Milo Milo Cari amici di Xtreme Hardware Sono disperato Non trovo più Milo Oddio in verità il suo nome non sarebbe proprio Milo E' ML06BE E' un piccolo esemplare di Case Mini TX della Silverstone E non riesco proprio a trovarlo Se volete darmi una mano a cercare Milo E magari trovarlo voi Potete partecipare al contest che Xtreme Hardware Ha iniziato insieme a Silverstone In palio c'è appunto un Case Mini TX ML06BE Che potrete chiamare come volete Io lo chiamo Milo E per partecipare è molto semplice Mettete un like alla pagina di Xtreme Hardware Pagina Facebook ovviamente di Xtreme Hardware E un like alla pagina Facebook di Silverstone Condividete il contenuto del post di questo video Post che trovate sia in descrizione qui su Youtube Che anche ovviamente il post di Facebook del video Lo condividete e il 15 novembre Verrà estratto a sorte uno di voi Che vincerà un Case ML06BE E che Silverstone spedirà direttamente a casa vostra Detto questo vi esorto a iscrivervi al nostro sito Xtreme Hardware.com Seguire i contest che la redazione vi propone durante l'anno Seguire anche il nostro canale di Youtube Per non perdervi neanche un contest E se volete lasciare anche un commento a questo video Detto questo Per adesso da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware È tutto Io intanto torno a cercare il mio Milo Ciao a tutti ragazzi Milo Io intanto torno a cercare il mio Milo